Ecco le immagini dall'Adriatico Giovanni Cordacchia, Pescara, Juventus Under 23, più di 7000 gli spettatori presenti, subito in avvantaggio al decimo minuto il Pescara con questa defiance di Jusen, il difensore olandese classe 2005, sbaglia tutto, il giovane centrale della Juve Under 23, ne approfitta Milani che va in pressione, il pallone per Cuppone, letale, occhi negli occhi con Garofani, decimo minuto, Pescara 1, Juventus Under 23, 0, non aveva fatto meglio neanche Stivanello che a lungo era stato seguito dalla Pescara in questa sessione estiva testè consegnata agli archivi, bravissimo Mesic qui in chiusura su Turicchia, Poi il gol, il secondo con una splendida verticalizzazione di Tunjov per Accornero, la rete del 2 a 0 al minuto 33, la prima rete in Serie C per il 2004, quarto gol consecutivo per Federico Accornero in prestito secco dal Genoa, lo scorso anno 19 gol in 28 gare, il campionato Primavera 2 con la maglia del Genoa, una sorpresa, una rivelazione, qui viene annullato il gol giustamente a Cuppone, che è un po' al di là rispetto ai difensori della Juventus, Under 23, guardate sul tocco di Merola, si trova al di là, insomma mi sembra giusta la segnalazione, l'annullamento del gol a Cuppone sarebbe stato il secondo, arriva però subito dopo su un traversone di Milani, malissimo i due centrali della difesa, come postura soprattutto, poi chiederemo anche a Fabio Ferraresi, vale a dire Stivanello e lo stesso Uisen, che è il centrale della difesa 3, guardate, letale, come sempre si gira Cuppone e fredda, da distanza ravvicinata, il portiere Garofani 3 a 0, siamo al minuto, appunto al 42esimo minuto del corso del primo tempo, queste sono immagini invece della ripresa con la tentativa di Tuniov, siamo al quarto del secondo tempo, il Pescara non comincia benissimo, mostra di accontentarsi, la sensazione è quella che si accontenti un po' di gestire il risultato, il punteggio già largo, e infatti arriva il 3 a 1, il gol della Juventus Under 23, il solito Simone Guerra, che è un over preso proprio dalla Juve in questo campionato, vedete la Feralpi Salò, aveva già segnato contro il Pescara, nella gara di ritorno degli ottavi di finale di due stagioni Orsono, allenatore Luciano Zauri, il Pescara venne eliminato dalla Feralpi Salò di Vecchi, qui ci prova ancora a Cornero, Garofani riesce a spedire, a rispingere il pallone in fallo di fondo, e poi il tentativo di guerra, qui una grande palla goal per la Juve Under 23, che avrebbe potuto riaprire il match, cicca il pallone, guerra e poi c'è comunque l'opposizione di Messi, che è stato il migliore della difesa, non succede altro, quarto minuto, quattro minuti di recupero, Pescara batte Juventus Under 23, 3 a 1, doppietta di Cuppone e gol di a Cornero.